Musica Ci aspettiamo una risposta da parte di tutti, anche dei cittadini, che ci hanno sostenuto con 5.000 firme. L'indifferenza uccide, uccide chi protesta per i diritti, uccide la dignità dell'uomo, uccide la dignità dei nostri figli. Venite con noi a protestare, non vi succederà niente, fate sentire la vostra voce, appoggiateci, i nostri diritti sono i vostri, non solo sono i nostri. Oggi a noi, domani può capitare a chiunque altro. Aiutateci a risolvere questa situazione, ve lo chiediamo per cortesia, per piacere, per bontà, non so più in che modo dirvelo. Accorrete, venite al comune, venite, venite, qua c'è un buffet di diritti, di diritti e di dignità. Grazie, grazie mille per averci sempre appoggiato. Però non basta, ci vuole la vostra presenza, ci vogliono le vostre facce, ci vogliono i nostri figli, ci vuole la nostra dignità. Venite, venite, venite tutti! Grazie mille per aver guardato il video.